Possiamo vedere il giovane Bruco muoversi all'interno del dell'uovo. Fiamma a casa di Bertha e c'è anche Lorenzo. Ragazzi ho voglia di uscire, venite con me. No, non ho voglia di uscire. I ragazzi partirono con la minicar di Lorenzo. Sei molto bella stasera, grazie di avermi fatto compagnia. Il Bruco sceglie uno stelo adatto e testa un cuscinetto di sesa al quale si attacca. Ti ho una relazione con un altro uomo, ti ho vista abbracciarti con qualcuno nel porteggio sotterrano. Non ti devo interessare queste cose, comunque io non ho un altro uomo. Ma come no? Ti ho vista io con i miei occhi. E' il tuo padre che ha una relazione con un altro uomo da quasi cinque anni. E' il tuo padre, ci stiamo per lasciare. Il babbo e la mamma ci separano. Fiamma inizia a cambiare completamente, comincia a frequentare gente che non conosce nei pub e a bere. Vorrei qualcosa di nuovo, di media lunghezza, scalati, oro e rossi. La cuticola del Bruco si prende lungo il dorso e la pupa inizia a emergere. Giove e Fiamma si iniziano ad occupare del cane, del nonno e dell'orto. Fiamma si inizia ad affezionare al suo babbo, a Pina e a Giulia. Fiamma si inizia ad affezionare al suo babbo. Fiamma si inizia ad affezionare al suo babbo. Fiamma si inizia ad affezionare al suo babbo. Migliori anni della nostra vita.